buongiorno a tutti spero state bene siete pronti per la sesta lezione oggi si parlerà delle fasi di recupero del corpo molto molto interessante questa tematica partiamo benvenuti a tutti i nuovi membri per la classe numero 6 oggi parleremo delle differente delle diverse fasi del recupero del corpo una volta che iniziamo ad utilizzare l'X39 oggi voglio fare una domanda se io voglio dipingere il muro posso semplicemente mettere la vernice giusto però se noi direttamente mettiamo la vernice la vernice poi non dura nel tempo giusto il modo migliore sarebbe di prima togliere la vernice vecchia giusto qual è il metodo più faticoso mettere la vernice nuova o togliere la vernice vecchia e togliere la vernice vecchia che è molto più faticoso giusto questo esattamente ciò che accade nel corpo vogliamo un nuovo tessuto una nuova cellula un nuovo capello per il corpo per poter produrre queste nuove parti bisogna prima far fuori le cellule le cellule vecchie o ripararle ed è in questa fase proprio che il corpo ha una serie di disagi ed è per questo che bisogna dare al corpo del tempo e un po' di pazienza avere un po' di pazienza ora guarderemo la sequenza di priorità nel corpo se abbiamo molte tossine anche le cellule nuove neanche le cellule nuove riescono a funzionare bene quindi qual è la priorità assoluta per il corpo? se vogliamo sbloccare una vena o vogliamo far fuori un tessuto vecchio per permettere al corpo ad avere un ambiente idoneo per creare nuove cellule nella prima fase la prima fase tipicamente con l'X39 è la fase di luna di miele e dove abbiamo più energia abbiamo meno dolori questa è la fase che il nostro corpo utilizza per accumulare energia per la prossima fase di lavoro critico che è la fase della disintossicazione le prime due settimane magari qualcuno è molto contento si sente bene ha più energia e tutto inizia ad avere un po' di prurito inizia ad avere un po' di diarrea inizia ad avere a puzzare inizia ad avere un gusto metallico nella lingua sono tutti sintomi di disintossicazione dopodiché il corpo cercherà di attivare il sistema di guarigione che è l'infiammazione è importante capire questo dettaglio l'infiammazione è necessaria è solo quando l'infiammazione è cronica che questo ci causa dei problemi e questi problemi possono diventare una malattia quindi tutte le malattie di infiammazione cronica sono di questa categoria ma invece un'infiammazione temporanea è necessaria non è solo normale è necessaria per il processo di guarigione quindi ad esempio se ci ammaliamo abbiamo febbre, giusto? la febbre è un meccanismo del corpo per alzare la temperatura del corpo stesso per poter combattere l'infiazione quindi questo meccanismo è fondamentale per la guarigione del nostro corpo e quindi il corpo entra nella fase successiva che è la fase del dolore magari la gamba è un po' gonfia il ginocchio ha più dolore di prima oppure uno ha una ferita vecchia e inizia a far più male è proprio perché il corpo sta cercando di far scattare il meccanismo dell'infiammazione in quell'area particolare per cercare di guarirti nella medicina tradizionale cinese si parla di una stagnazione della Qi che è l'energia quindi quando viene generata più energia o più Qi possiamo avvertire del dolore nelle zone dove l'energia è stata bloccata per tanto tempo se il dolore è veramente troppo ricordatevi di bere tanta acqua ok? se quello non bastasse potete togliere il cerotto per un po' di tempo e poi rimetterlo quindi ora il corpo ha fatto scattare il meccanismo dell'infiammazione e quindi il corpo ha creato l'energia necessaria per combattere il problema e quindi cosa succede? stanchezza perché il corpo ricordate la metafora della vernice abbiamo raschiato via la vernice vecchia e quindi questa rimozione di tessuti vecchi e o danneggiati costa molta energia e quindi siamo molto affaticati quindi magari di giorno ci sentiamo affaticati in momenti strani se è possibile riposatevi dopodiché il corpo ha bisogno di nuovi ingredienti per rimpiazzare le cellule che abbiamo fatto fuori e costruire delle nuove e quindi entriamo nella fase della rigenerazione ad esempio persone che hanno problemi ai reni spesso devono andare a far pipì spesso anche di notte quindi con l'utilizzo dell'X39 ci si può sentire molto stanchi questo è perché il corpo deve pompare più sangue e dunque ingredienti verso i reni in questo caso per aiutare a generare più cellule nuove e questo pompare in più del normale da parte del cuore può causare una pressione alta per un periodo temporaneo quindi anche durante la fase di rigenerazione possiamo avere un po' di dolore una volta che abbiamo raggiunto la fase di miglioramento delle funzionalità degli organi siamo nella fase di luna di miele quindi attraverso tutti questi cicli magari ah abbiamo fatto fuori le macchine sotto gli occhi prossimo ciclo ah vedo dei capelli nuovi e quindi ogni ciclo è necessario per avere un miglioramento continuo delle varie funzionalità del corpo vuol dire che ogni persona una volta che inizia a utilizzare X39 immediatamente entra nella fase di blu di miele no alcune persone appena mettono il cerotto subito entriano nella fase della rigenerazione vedono dei capelli nuovi vedono la cicatrice che scompare altri sono subito stanchi altri hanno subito fasi di disintossicazione quindi hanno subito la diarrea o la costipazione gonfiore altri invece hanno subito il dolore insomma la cosa più importante è che bisogna fidarsi del corpo e dare tempo al corpo e avere un po' di pazienza e quindi ad alcuni verrà la domanda ma io come faccio a distinguere tra un effetto collaterale del prodotto o una crisi di guarigione come faccio a capire quale è quale bisogna capire la domanda non è interamente corretta perché bisogna capire la natura del prodotto non transdermal che è la descrizione del prodotto niente entra nel nostro sangue niente entra nel corpo se usiamo prodotti tipici del wellness supplementi succhi di frutta speciali iniezioni di cellule staminali o pillole con il tacenta tutte queste cose sono invasive qualcosa di esterno viene messo nel nostro corpo non sappiamo esattamente a parte l'etichetta non sappiamo esattamente la composizione di ciò che stiamo ingerendo ad esempio potrebbero esserci anche dei farmaci sintetici o naturali che siano ma sono tutte cose che vengono al di fuori del nostro corpo quindi quando la gente si domanda o è un effetto collaterale o una crisi guarigione in questo caso la distinzione è difficile da fare ricordate però nella live wave niente entra nel corpo questa è la cosa più importante non viene usato niente da fuori tutto ciò che fa il cerotto viene spronato dal nostro stesso corpo dall'energia del nostro corpo quindi è importante ricordarsi che qualsiasi cosa succede nel corpo bisogna avere la fiducia che poi il corpo si rimette in moto che si riprende queste sono le quattro cause principali di morte nel mondo nel 2019 numero uno problemi cardiovascolari due tumori tre problemi alla respirazione quattro problemi di digestione tutti questi quattro sono problemi di degenerazione degli organi interni e se parliamo di spese mediche di problemi cardiovascolari e tumori per la chirurgia al cuore si viaggia già su 7-8 mila euro facilmente per un tumore al colon 20 mila euro tumore al polmone 15 mila euro eccetera eccetera quindi se riusciamo ad evitare spese mediche e utilizzare un prodotto che non è invasivo e che ha che è stato testato in più di 130 prove cliniche pensate che valga la pena utilizzare questo prodotto ecco perché ci piace molto il prodotto x39 non possiamo garantire che ciò che succede a un altro succeda anche a voi però l'azienda Live Wave è talmente generosa che bisogna sempre tenere a mente che comunque l'azienda offre una garanzia di un mese cioè possiamo usare il prodotto la prima volta che lo compriamo possiamo usare il prodotto e farci restituire i soldi se non ci piace quindi alla fine alla fine non c'è modo di non si può uscire perdenti da questa prova quindi è importante utilizzare il prodotto con una mente aperta crisi di guarigione dolore fasi di gran di miele di nuovo crisi di guarigione attraversiamo tutto questo e se proprio non lo vogliamo lo restituiamo e ci facciamo rimborsare niente male vero nel settimo ed ultimo video guarderemo a dei modi per capire come fare l'autodiagnosi dei cambiamenti perché alcune cose non sono facilmente percepibili come i cambiamenti sulla pelle e la crescita dei capelli o il colore dei capelli non è tutto facilmente percepibile quindi vedremo una struttura un sistema per capire meglio come tutti questi cambiamenti avvengono e come ritracciarli grazie per la visione ci sentiamo presto per il settimo ed ultimo video di questa serie fatemi sapere che avete visto questo video e sarò contento di mandarvi l'ultimo video grazie a tutti